Durante l'emergenza Covid le donazioni di sangue sono diminuite, ma ora possiamo recuperare tutti insieme. Sei dei nostri? Vai tranquillo. Prima però ti devo sottoporre un piccolo test. Sono pulito. Ma smettila. Prima di donare il sangue cosa non bisogna fare? La staffa. No, mangiare grassi, fritti, uova e latticini. Ah, quindi si può bere. Ma non alcolici però. E donare d'estate è ottimo, perché? Per la prova costume. Si perde mezzo chilo in 15 minuti. No, perché d'estate c'è ancora più necessità. Ultima possibilità. Il sangue prelevato prima che possa essere trascuso viene... Fattorizzato? Analizzato fuori. Quindi vado via. Eh, vai a donare il sangue. Vado. La Sardegna si dona. I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta. Dona anche tu. Campagna istituzionale della regione Sardegna in collaborazione con Avis, Talassazione, Fidas, Fratres.